Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Matsu e mi sono tornato finalmente a portarvi il proseguo di una serie che a me piaceva tantissimo ovvero la Top 5 Pack Opening Reaction come avete visto questo è il periodo di Toz e appunto essendo il periodo di Toz ho deciso di concentrarmi esclusivamente su questo tipo di carte quindi vedrete episodi di Top 5 Pack Opening esclusivamente su Team of the Season spero che comunque questa idea vi possa piacere, vi garbi, soprattutto perchè sono video corti, molto divertenti e soprattutto che magari vi possono far sorridere per quei 2-3 minuti nell'arco della giornata quindi ci tengo veramente tantissimo di un feedback positivo per questo video cerchiamo di arrivare almeno a 40 mi piace per un prossimo episodio e detto questo vi auguro buona visione Bella! Frag da tutto il sistema doveva è perfetto in questo modo lo spedero lo spedero è perfetto ma изizizzo la compagnie riprigi oh oh guardami qualcuno che cazzo hai fatto hai trovato quello stronzo di un toz non vedi che è blu secondo pacchetto questo è quello buono questo è quello buono blu 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 quanto costi quanto costi quanto costi quanto costi quanto costi mares è il mio è il mio mare quanto costi 4 5 6 i i i i i i i A GOOOOOOOL! METIOLO! OCEI! 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 94.5! Ja ja! A BUERA! A BUERA! A BUERA! A BUERA! A BUERA! A BUERA!